Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che ieri è uscito il primo video di una nuova serie, il Road to Victory, una nuova serie dedicata alla carriera allenatore, ci terrai tantissimo se passaste a lasciare un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova serie, lasciate un mi piace, spero vivamente possa interessare e vi possa far passare più di qualche minuto in mia compagnia. Salve tutti ragazzi sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, buona domenica e bentornati in questo episodio della carriera allenatore con il Colchester, vi ringrazio per tutto il supporto che state dando ai miei video in questo periodo, sono contento che vi sia piaciuta l'idea della doppia inquadratura, oggi non ci sarà perché sto registrando questo video di sera, la stanza è molto buia e quindi non avrebbe senso, ma dai prossimi continuerà, cercherò di migliorare l'inquadratura, cercherò di migliorare anche la visibilità. Mi avete detto infatti, ma Menz come fai a giocare in quella televisione così piccola? In realtà la mia televisione è bella grande, ma da quell'inquadratura sembrava effettivamente molto piccola. Altro di cui parlare ragazzi, oggi andiamo a finire il nostro percorso in League One, quindi vedremo se riusciremo magari a vincere il campionato o no, ma soprattutto andremo a fare un colpo di... Un colpo. Andiamo a fare un colpo, non in banca, ma andremo a fare un acquisto, ovvero Johnson, Clark, Harris, attaccate le Bristol Rovers, che ha dei dati interessanti, soprattutto di forza fisica, accelerazione non male, anche un po' di velocità. Come quarto attaccante da mettere al posto di Big Nob, secondo me ci può stare, però vediamo un attimo che il ruolo squadra ci chiede. Allora, ruolo squadra, turnover, Clark mio. Buono come il pane, buono come il pane. Vanno bene anche tre anni, mi vanno bene anche tre anni, assolutamente. Bene così ragazzi, questo ci voleva proprio. Per quanto riguarda invece lo stipendio, noi abbiamo 15k lì e gli andiamo ad offrire 7k. Vediamo un po' cosa mi dice il nostro amico. Hanno accettato signori, perfetto. Il prossimo anno il nostro caro amico Clark si aggiungerà alla nostra squadra. C'era un altro, che dovrebbe essere Findlay, che è un difensore centrale. Andiamo a vedere se dovesse chiedere cruciale o importante, sinceramente ragazzi, per lo stesso motivo per cui non prendo ben me, non prenderò neanche lui, ovviamente. Proviamo turnover, vediamo cosa ci dice. Cruciale. Ciao bello. Ciao bellissimo. Un salutone. A questo punto ragazzi non c'è altro tempo da perdere, mi ha detto di prendere Ricky Jade Jones, ma secondo me quel giocatore era da prendere un po' prima, col primo anno. Andiamo a giocarci questa pareta contro il Doncaster, pareta a dir poco importante raga, perché il Millwall si è fermato e quindi avremo la possibilità di recuperare forse qualche punticino. Proviamo a fare il nostro e vediamo come finirà. Andiamo in campo con questo 11 di dollari, signori, sempre sul pezzo. E forza col Chester. Stevenson. Guarda il buco, guarda il buco Ferguson. Madonna che palla, ma che palla è Fergu? Ma dai. Era tutto da solo, Poku. Stevenson. Bella filtrante per Ferguson, che questa volta riesce a servire decentemente Poku, che si appoggia a sabbi. In qualche modo prova ad andarsene Manuel, mantiene il possesso e si torna dietro da Stevie. Si fa girare il pallone. Ikei avanza. Al centro, come al solito, Scott la viene a prendere. Si torna dal nostro terzino. Stevenson subisce fallo, ma Scott la protegge e la gioca a sabbi, che la fa scorrere un po' troppo. Ma forse ci siamo ancora noi, perché Poku lotta e mantiene il possesso. Ancora Stevenson. Senior al centro per sabbi, che la fa scorrere. Si gira. Sabbi col destro. Loulor. In calcio d'angolo. Era da fare. Oh, sabbi. Che ti succede? Guardate come l'aveva fatta slideare. L'aveva fatta scorrere. Peccato. Bravo Tafari Moore, mamma mia. Grande chiusura. Poi sabbi. Di fisico. Lotta. Emanuele sabbi. Può correre fino in fondo. Lo braccano però i difensori del Doncaster. Ferguson la viene a prendere Scottino. Se la mette sul destro, attenzione Scott. Cerca un varco. Si appoggia nuovo Ferguson. Non ci posso credere. Era tutto buonissimo. Era tutto buonissimo, ma Loulor ancora una volta ci mette il corpo. Il tiro di Poku era una scoreggiata, per carità. Però finisce quel primo tempo, signori. Solo una squadra in campo. Il Colchester. Ma non riusciamo a segnare. Dobbiamo. Dobbiamo per forza. Fammi vedere il Millwall. Millwall sta vincendo 1-0 contro il Coventry. Dobbiamo passare in vantaggio, raga. Sì, Scott. La va a riprendere. Dopo averla persa, la va a riprendere, Scott. Sabbi. Sabbi, hai da farti perdonare un gol mangiato. Oh, la mamma mia. Raga, oddio. C'ho paurissima. Si è sbaggato. Mi sa che si è sbaggato Sabbi. Mi sa che si è sbaggato Sabbi, ragazzi. Sbaglio perché il Doncaster, ragazzi, sale pericolosamente e Stevenson prova in tutti i modi a rubare questo dannatissimo pallone. E ce la fa. Ce la fa, Stevie. Ce la fa, Stevie. Sabbi, la larga per Scott. Oh, ma porca, ragazzi. Oggi ma che succede che non riusciamo a fare mezzo passaggio dietro fila? Ragazzi, sono un mezzo semplice. Quando sono in difficoltà passo al 4-2-4. E senior sempre sulla sinistra. Fuori Poku. Dentro Mackay Steven. Fair uso. Per Sabbi. Di tacco per Sikan. Attenzione al centro. Dove c'è Ferguson? Palo. Palo di Ferguson. Da una posizione imbarazzante. Dai, va là, ragazzi. Ma di che cosa parliamo? Poi Mackay Steven. Prova ad andarsene con la skill. Non so più cosa fare. Se ne va per un momento. Poi James. Ragazzi, ma da dove ha preso il palo Ferguson? Sikan. Ferguson. Scambia ogni due. Sabbi. Bella questa palla per Ferguson. Questa volta ce l'ha sul destro. Lo prova. Palo goal questa volta. Oh. Oh. Quanta tensione, cavolo. Quanta tensione. Finalmente. Riusciamo a sbloccarlo. Ma vi giuro, raga. Ero tesissimo perché, cioè... Prima gli è capitato sul mancino. Ha tirato una scarpazzata. Questa volta il palone di Sabbi non era male. Il destro di Ferguson però sbatte sul palo. E poi finisce in porta. E il Colchester passa in vantaggio finalmente. Niente da fare per l'oulora. Adesso si torna come eravamo prima però. Finisce qua, signori. Tre punti realmente fondamentali. Per la rincorsa. I nostri tifosi risultano, sono contenti. Hanno visto una bella partita da parte dei nostri quest'oggi. Un po' meno da parte dei tifosi del Don... Cosa ho detto? Cosa ho detto? Zero. 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 Il Millwall vince 2-0. Faccia i ladri. Bene, signori. È arrivato il momento di simulare un po' di partite perché siamo contro il Rockdale che è penultimo in classifica. E dopo mi sembra abbiamo l'MK Donso. Non mi ricordo sinceramente. O il Lincoln. Penso il Lincoln ma credo simuleremo in ogni caso. Mettiamo qualche sostituto in campo magari visto che siamo un po' stanchini. Ma mica troppi. Andiamo in campo dunque con la formazione titolare tranne che per Sikan e Dharami. Che per queste simulazioni avranno un po' di spazio. Vediamo un po' come vanno. Vinciamo 4-0. Poku, Sabi, Sikan e Makai Steven. Subentrato. Ottimo. Bene. E vediamo se il Millwall si è fermato. No, abbiamo sempre purtroppo tre punti dal Millwall. Ragazzi se il Millwall perde e noi vinciamo siamo avanti noi. Siamo avanti noi. perché abbiamo vinto gli scontri diretti. Con questa formazione un po' rimaneggiata ci andiamo a simulare la partita contro il Lincoln che non è tra le prime sei. Vediamo un po' come va. Iniziamo 2-0. Doppietta di Ferguson. Olè. Anche questa abbastanza rapida e indolore. Incrociamo le dita, raga. Devo sempre sperare che il Millwall si fermi. Cioè, proprio mi vogliono far piangere. Cioè, mi vogliono far veramente, ma veramente piangere. Cioè, raga, il Millwall pareggia. Abbiamo un punto in meno. Ma quanto vorrei lo scontro diretto ora. Ragazzi. Ragazzi, a poche partite dalla fine. Noi potremmo ancora farcela. Siamo a maggio. Contro chi è che devo ringraziare per il momento. 4-0 contro il Rockdale. 2-0 contro il Lincoln. E il Millwall contro il Rockdale. Raga. Abbiamo un punto. Un punto di distacco. Oh mio Dio. Adesso non si può più scherzare. Allora, qua sono tutti contenti. E mi fa molto piacere. Non stiamo seguendo i piani. Non stiamo seguendo i piani. Veramente penso di poter piangere. E qua ci sono gli allenamenti. Ma aspettate un secondo. Contro chi siamo queste ultime partite? Perché adesso inizia maggio. E abbiamo tre partite. Il Barton, lo Shresbury e il Fleetwood. Qualcosa simuleremo. Allora, Phillip. Non Alfi. Ma che ti sta succedendo, figliuolo? Ethan Davis. Niente, ragazzi. Passiamo a Ethan Davis. Passiamo assolutamente a Ethan Davis. Mentre Archie Wilson. Così, così. Ma perché Alfi Phillips? 79, ragazzi. Non mi sembra vero. Allora, signori. Abbiamo la partita contro il Barton. Che, come detto, ci andiamo a simulare. Pressoché con la stessa formazione di prima. Ma... Sono teso. Sono realmente teso. Non so se si vede. Vinciamo 3 a 1. Tripleta di sabbia. Ok, non me ne ero accorto. Qui non mi fa vedere quanto ha fatto il Millwall. E dai, sti aggiornamenti. Cioè, ragazzi. Voi dovreste sentire. Io non so se si sente. Io non so se si sente. Non so se si sente. Non so se cosa avete sentito. Se avete sentito il nulla. Vi giuro mi sta scoppiando il cuore. Vi giuro mi sta scoppiando il cuore. Cosa è successo? Peterburg Millwall 1 a 1. Ti venisse al Peterburg. Grazie di esistere. Ragazzi, potrebbe non essere tutto vano. Potrebbe non essere tutto dannatamente vano. E ovviamente adesso le ultime due partite ce le andiamo a giocare. Oh, signori. Io non mi aspettavo onestamente quando ho iniziato a registrare il video di oggi questa situazione. Assolutamente non me l'aspettavo. Davo... Ma penso di averlo dimostrato con i miei atteggiamenti che il campionato lo davo assolutamente per spazzato. Andiamo a giocarci questa verità contro il Schlesbury. Ah, la pasta. La pasta di cecco. Ho capito. E ci andiamo con la formazione titolare che non è assolutamente questa. Ma chiaramente questa. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. E forza col Chester. Cioè, adesso io non voglio farmi fermare dalla pasta di cecco. Preferisco farmi fermare da altri se proprio mi devo far fermare, ma non dalla pasta di cecco. Oh, regà, non si scherza più. Cioè, non... Io ero... Ma io non so se posso giocare con questa pressione sulle spalle. No, Okinabirie. Ma porca loca. Mabba. Niente. Abbiamo perso il campionato qua, ragazzi. Okinabirie, cioè. Okinabirie. Sì, Stevie. Sì, Stevie. Grazie di esistere, amore mio. Bravo, Ferguson. Poi Scott, così una ballerina strabella. Ferguson. In avanti per Sabby. Vanno avanti due principi dell'I... No, aspetta, ho sbagliato. Senior. Scott. Ancora Senior. Ancora Senior che entra in aria. Senior è velocissimo. Non lo tengono. Sta appoggiando dove c'è Stevie. Inserimento anche di Poku. Gregory. Con l'impiede. Ragazzi, li avevo fregati tutti quanti. Li avevo fregati tutti quanti. Pure io non... Non lo... Mamma mia, non posso giocare così. Sì! Sì, Wood! Sì, Wood! Si vola, cavolo! Il mio legnetto! Il mio legnetto! Wood! Dal nulla! Scusate, ragazzi, non posso urlare perché è realmente tardi. Wooddino mio! Il nostro legnetto ci porta in vantaggio ed era straimportante lasciare un attimo la tensione dopo quello che è successo prima. Non l'ho lasciata la tensione, ragazzi. Assolutamente sono più teso di prima, che rollo. Finisce con il primo tempo, ragazzi. Siamo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Wood. Eravamo partiti molto bene all'inizio, poi le Schlesbury è uscito. Si è fatto vedere in avanti. Non è stato particolarmente pericoloso, ma il Miluolo sta vincendo 1-0. Quindi il nostro risultato per il momento è stra-positivo. Stasera questa palla liberata da Taffarimur in malo modo. Goss passa dalle parti di Cummings. Come al solito Stevenson è il signore in chiusura. Anche Ike adesso nel suo ruolo. Poi Portius, attento, come al solito, posizionato bene il nostro Portius. Vediamo se riusciamo a ripartire adesso con Scott. Sabi perde il contrasto. Williams lo anticipa molto bene. Ancora Goss. Sta facendo una grande partita del centrocampista del Schlesbury. Occhio a Cummings. Tiene il pallone. Non affonda Cummings. Ikei su di lui. Occhio adesso, però, si trova spazio. Goss e... Mamma Jerkin! Che parata Jerkin! Che parata Jerkin! Ci avevano fatto fuori in maniera incredibile. Il tiro era centrale, ma Jerkin è attento. Al centro. Per Scott. La protegge, bravissimo, intelligentissimo. Comunque Jamie Scott, eh. E Senior rientra. Taglio di Sabi. Servito un po' in ritardo, ma servito. Sabi la mette in mezzo! Courtney Senior! Courtney Senior raccoglie l'assist perfetto di Emmanuel Sabi. E il Colchester raddoppia. 2-0 per noi. Che pallina, raga. Che pallina. Mi sto a scioglie. Mi sto sciogliendo. Mi sto sciogliendo, ragazzi. Io non ci voglio... Posso... Credere. Io non ci voglio... Posso credere. Faccio dei cambi, però. Faccio dei cambi. Infarto. Io non infarto. Dentro la Zanaglia, al posto di Poku. Fuori Ferguson, dentro Anderson. Vai. Senior Shrewsbury. Che non smette comunque di crederci. Cummings e Portius. Ragazzi, oggi veramente Portius... Si è fatto male. No, raga. Portius non può giocare così. Ma cos'ha? Infortunio facile Portius? Che ogni volta che vola per terra si spacca qualcosa. Non so per quale motivo. Ancora Portius, però. Nonostante l'infortunio... Chi ci va qua? Nessuno. No, ma fateli palleggini. Intanto io sono là e voi siete là. Siete una Cummings. Il mancino colpisce Wood e poi Jerken la blocca. Non mi dice neanche di cambiare Portius. Vediamo un attimo. Tutto tranquillo, Portius. Tutto tranquillo. Succa. Oh, che nabilie. Succa. Ragazzi. Ma se vengiamo sta partita siamo campioni? No. No, 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 no. Vinciamo, però. Vinciamo. Non siamo campioni perché se non erro abbiamo un punto di distacco se il Millwall dovesse vincere. Un punto di distacco, non tre. Giusto? I nostri calzatori sembrano consapevoli, però, di aver fatto per il momento qualcosa di straordinario. Mentre questi dovreste cambiare la vostra divisa perché realmente sembrate un pacco di pasta. Quindi proseguiamo il Millwall vince 2-1 e ce la dobbiamo sudare fino all'ultimo. Incredibile. Non era nei piani e adesso ce la dobbiamo sudare fino all'ultimo. Beh, magari fosse sempre così. Mio Dio, ragazzi. Non riesco a decludire. Siamo primi. Sì, è tutto vero. È tutto dannatamente vero. Abbiamo l'ultima partita contro il Flip. Prosser. Cristo santo. Eh, signore benedetto, ti farò scendere in campo. Vediamo un po' qui i nostri giovani. Allora, Callum Mitchell. Nope. Archie Mitchell. Nope. Billy Roberts. Nope. Callum Thomas. Allora, questo lo ingazziamo. Io sono scioccato. Cioè, stiamo andando a giocarci la partita per il titolo. Dovessimo vincerla saremmo campioni, raga. Siamo contro il Fleetwood. È l'ultima partita. È l'ultima partita. Il Fleetwood quanto sta in classifica? Non ha una scacazzata, dai. Parliamoci chiaro. Fleetwood era in basso, vero? Cioè, raga, tredicesimo. Tredicesimo. Facciamo giocare Prosser per fargli salutare i tifosi. Preferisco metterlo in campo da subito, Prosser, piuttosto che dopo. Wood si meriterebbe di giocare, per carità, però. Famo sto sacrificio. E per il resto, formazione titolare. Andiamo in campo, siamo anche in casa nostra. Siamo anche in casa nostra. Sta piovendo. Mannaggia i diavoli. Andiamo in campo sempre sul Prosser, forza Colchester. Ragazzi, è l'ultima partita di League One. E ci giochiamo il campionato. Io ho iniziato... Io, ragazzi, vi dico qual era il piano per questo video. Era simularle tutte quante. E iniziare il calcio a mercato della seconda stagione. Fate voi. Fate voi. Non era di certo quello di giocarmi l'ultima partita contro il Fleetwood per vincere il campionato. Credetemi. Credetemi. Mamma mia, lo giuro. Sarebbe troppo bello, perché anche in League Two abbiamo avuto un po' di sfortuna nel campionato. Avevamo fatto una grandissima stagione, ma è andata male. Forza, adesso concentriamoci. Facciamola girare con calma, ragazzi. Ferguson. Poco. Guarda questa palla per... Tafari Moore. La mette in mezzo dove c'è Senior. Che colpisce. Di testa, ma non riesce a indirizzare bene il pallone. Sgarby. Si chiama Sgarby, quello. Si chiama Sgarby, il centrale del Fleetwood. Vorrei comprarlo. Ferguson. Poco. Siamo partiti molto bene. Sabi. Il taglio di James Scott. Oh mio Dio. Il controllo è stato un po' difficoltoso. Mi ha fatto perdere il tempo. Scott. Ancora Senior. La facciamo girare. Bellissima questa palla per... Poco. Entrare a poco. Col mancino. La palla arriva. Ma Sabi ci parla col destro. Sì. 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 E Manuel Sabi. 1-0 col Chester. 1-0 col Chester. Il portiere si insacca il pallone. Io penso che questa sia opera di Jerken. Cioè, secondo me c'è... Un paio... Un pelo di calcio scommesse. Un pelo di calcio scommesse. Guardate il portiere che fa. Per me qua c'è lo zampino di Jerken misto Lawrence misto Clark. Si è già creata la combricola. Si è già creato il trio del Dark Web. Il trio del Dark Web. Poco. Ferguson. Per Portius. E al centro per Stevenson. Si passa dalle parti di Senior. Attenzione perché dall'altro lato c'è il libero Poco. Servito perfettamente. Bellissimo questo cambio di gioco. Poco. Ce la mette sul Mancino. La mette in mezzo. Dove c'è carta di Senior? Che prova! A colpirla di Mancino. Forse era meglio di destro, no? Sarebbe stato più facile di destro. Ma... Non lo so. Ok, al Fleetwood. Si fa avanti. Bravissimo Taffari Moore. Non è già che ha dei problemi con il rinvio al volo. Mi sembra di vedere comunque. Ferguson invece non ha nessun tipo di problema. Porca miseria. Chiudiamo sta partita. Chiudiamo il discorso. Chiudiamo il discorso, Manuel. Chiudiamo il discorso. Più a te. No, va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene. Ma cos'è? Che succede? No, va bene, ragazzi. Ma dai, ma stiamo scherzando, vero? Ma cos'è sta pena che ho appena visto? Calmi, 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 calmi. Calmi, sì. Cosa se volete? Tira del di lì. A coio. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. Siamo avanti 1-0. Siamo avanti 1-0. Me lo dice quanto sta facendo il... Il milo. Tra l'altro siamo avanti 1-0 per il... Il milo lo sta facendo 2-0. Siamo campioni noi, così. Sabbi. James Scott. La protegge. Salute sul macino. È passato James con... Mamma, Gilks! Che pareda che ha fatto. E si arrabbia, James Scott. Voleva essere il protagonista di questa partita. Qui era riuscito realmente bene a liberarsi. Il portiere del Fleetwood, però... Grande parata. Stevenson. Ne usciamo alla grande. No, 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 raga. No, no. Sono agitato. Sono cavolo agitato. E sto sbagliando troppi palloni. Occhio al Fleetwood. Il Portius nazionale, però, la mette fuori. Grande Portius, ragazzi. Che fisico del nostro Portius. Devo fare dei cambi. Perché poco è stanco. Sabby. Si autopassa, praticamente. Vabbè. Va bene così. Stevenson. Passa da Sabby e dall'altro lato per poco. Ultimazione per il nostro Kwame. Basta un poco di zucchero. Al centro per... Sabby. La fa scorrere. Dove c'è Scott. Ragazzi! James Scott! James Scott! 2-0 col Chester! Madonna, vorrei urlare. Vorrei urlare. L'assist di Sabby. Il destro di James Scott. che diventa re nella notte di col Chester. 2-0 per noi, ragazzi. 2-0 per i blu. 2-0 per quelli che sono primi in classifica, così. Oddio! Gol numero 9 per James Scott. Ferguson. Sabby. Prova a liberarsi Emmanuel Sabby. Madonna, da chi vado? Da Ferguson vado. Dietro da Stevenson. Si passa di nuovo da Emmanuel Sabby. che perde il pallone. Riusciamo comunque a tenere del possesso. 2-0. 3-0. 3-0. Io piango, ragazzi. Io mi sto commuovendo. Vi giuro mi sto commuovendo. Sapete perché mi sto commuovendo? Perché io quando faccio le mie dannate carriere allenatore ci metto il dannatissimo cuore. E quando, ve lo giuro, faticando, mettendoci tutto me stesso riesco a raggiungere certi obiettivi. riesco a costruire il Ligue 2, questo tipo di squadra. Io sono contento, porca miseria. Ben Stevenson. Che gol è, raga? Che gol è? Ci tengo troppo. Mi sono affezionato troppo a questi ragazzi. A parte Darami e Sikan. Ma poverini. No, stavo, dicevo. Si è fatto male a Sabbi. Sabbi? What the hell? Cos'è successo? Se non è Evans. Porto si è in chiusura, ma ci mette la firma anche Jerken su questo campionato. Ci mette la firma anche Jerken con questa bella parata su Evans. Questa è veramente una bella parata, ragazzi. Jerken ha un overall basso, ma ci sa dannatamente fare tra i pali. per Sabbi che in qualche modo riesce a passare nello stretto. È finita, ragazzi! È finita! È finita! Non ci credo, no! Non ci credo! Non ci credo, ragazzi! Non ci credo! Io non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere! C'è una macchina fotografica che sta andando per conto suo. Neanche lei ci può credere. Ma io più di tutti, ragazzi. Io sono cinque episodi che continuo a ripetere che questo campionato era impossibile da vincere. Io sono cinque episodi che dico che il Millwall sarebbe stato campione indiscusso e invece le ultime tre giornate c'è stato il crollo. Ma che stagione è stata, ragazzi! Che scalata è stata! Che ripresa è stata! Siamo campioni, ragazzi! Vinciamo la Ligue 1! Jerken, alza il campionato! Alzala, Jerken! Alzala! Non ci credo! Non ci posso credere, ragazzi! Avrei troppe cose da dire! Grazie per tutto il supporto! Mi avete detto nei commenti, qualcuno di voi mi ha detto Menzo continua a crederci perché nelle ultime partite è possibile che il Millwall abbia un calo! Il Millwall l'ha avuto! Noi no! E adesso ci portiamo a spasso la coppa! Che bellezza! Che bellezza, raga! Che bellezza! Madonna, guardate Gilks lì! Quanti anni c'ha? 18.000! Campioni, raga! Campioni! Vinciamo! Dopo una ripresa sul Millwall devastante! Aveva... È stato... Ve lo giuro, per me è stato stressante questo campionato perché Vedevo il Millwall troppo più forte Chiudiamo con 120 punti 3 squadre a 100 punti Ragazzi! 3 squadre a 100 punti 38 vittoriosi, 6 pareggi e 2 sconfitte Il Millwall, secondo a 119 punti Cioè, voi ditemi Perdere il camp... Io mi metto nei panni del Millwall Perdere il campionato a 119 punti è devastante Cioè, la stagione che abbiamo fatto quest'anno è stata assurda Leasing.com è campionato vinto Finale di Carabao e Quarti di FA Cup Mamma mia! Ma sapete anche chi dobbiamo ringraziare, raga? Emanuel Sabbi 35 gol Segnati da Emanuel Sabbi 14 assist È stato Pazzesco! Vi saluto spero ovviamente che questo episodio vi sia piaciuto Deve esservi piaciuto E nel prossimo iniziamo la nuova stagione Quindi qui sotto nei commenti Fatemi sapere Chi dovrei comprare Come dovrei muovermi Io spero vivamente, ragazzi Che questa stagione Questa carriera allenatore vi stia piacendo Io, come già detto Ci sto mettendo Tutto il mio cuore Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti, ragazzi Siamo campioni! Ciao a tutti!